Siamo? Tutti muti! Adesso batte il giallo, aspetta. È la quattordicesima? Sì. Attenzione, se c'è la moto... Ma improvviso la... Questo è l'ultimo appello. Chiunque nasconda. Prova. Prima gli parli, poi lo prendi... Sì, esatto. Quindi mi alzo. Questa è la fine che devono fare tutti i fascisti e i loro collaboratori. Vi diamo l'ultimo appello. Chiunque nasconda ancora un uomo, una donna fascista, farà la fine di questo reazionario nemico del popolo! Esatto, bravissimo. Il cascato è il mio errore. Avvi registrato? Allora rifacciamo. Adesso lo fai col pitale in mano. Cosa vuol dire? Che non è la rirecita? La rirecita e se viene bene facciamo la scena. Parlo. Quindi tiene il pitale. Parlo e poi versi. E parli e poi versi pian pianino. Però piano, tu gli dici... Quando lui sta versando gli dico bevi questo che non è fascista. Bravo, bravo. Mi fa soccolpire sotto il dato. Ma va bene. Si sta, si sta, si sta. Vai. Senti che bene. Che sanno. Fermi. Quindi devi prendere il dato. Fermi. Sì, tra l'altro. Fermi tutti, siamo pronti? Vai. Sei pronto ma non? Vai. Scena 6, quattordicesima. Fermo, fermo. Sì, da capo. Io canaia. Scena 6, quindicesima. Questa è la fine che devono fare tutti i fascisti e i loro collaboratori. Fidiamo l'ultimo appello. Chiunque nasconda ancora un uomo o una donna fascista farà la fine di questo cane reazionario. E bevi questo alla nostra sandista, carogna fascista. Fermi, stop. Ottimo. Prendi l'imbottitura, prendi l'imbottitura. Ha fatto il tempelo, che pazzo! Non metti, sta fresco! Adesso spendo! Riempitelo, era bollente! Sta fresco! E' la temperatura giusta! Sbizzato! Era sorgente proprio! Allora, attenzione adesso! Stelio, fermo il mobile! Vi cacciate due lesche, però sempre con grano sali! Esatto! Bravissimo! Dai, è quasi finito di partire! Prova! Esatto! Poi facciamo noi il suono! Esatto! Esatto! Bravo! Lo fai solo tu! Lo fai ora! Nooo! Si, lei è in terra però adesso! Beh, certo! Si va in terra come prima! Che c'è l'è tutto da tardi! Sai cosa? Prendetelo vicino! Ehm... Dimmi, dimmi! Molto il discorso di dare a un certo punto alle botte! Bello che uno a un certo punto gli viene il boschizzo, prende e butta via! No, no, no! E' scary movie! Posso avvicinarmi a lui un po'? Si, puoi! Se ce la fai... Prendi i piedi a una ganga! Forza! Come se lo adessi! Così io ti do un bel calcio! Nooo! Sono molto a rischio qua! Partito! Ve lo dico... Prego! Grazie! Ci siamo? Aspetta! Ciacca! Dio madonna! Che? Ci sei Manu? E' Manu che devi dire ok! Ok! Vai! C'è la sei sedicesima! Prego! Grazie compagno! Ehi! Ah! Ah ah ah! Cazzo! Cazzo! Nooo! Ah! Eh va bene! Tagliamo? Si vede, si vede! Mettete sotto l'imbottitura! Eh no, non ci sta, non ci sta Ale! Mi fai senza l'imbottitura? Senza l'imbottitura ti ha fatto male! Prova! 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 Allora gira la cosa! Gira la tazza da questa parte! Perché tu l'ha presa! Sì! Come così se cade! In fondo non era neanche un grande avvocato! Non è anche se appena la sfiora quella lì cade! Esatto! Ale! Appena la sfiora cade quella lì! Anzi! No! Alleluia! Allora arriva in modo... Quindi Lore tu hai fatto o vuoi rifarla adesso? L'hai fatto? Manu! Un punto che si vede che... No! L'inquadratura allora niente! L'inquadratura te la devi prendere da sopra! In modo e maniera che io mi fermo prima! Esatto! Vengo lì adesso! Vai! Vai! Vienじゃ!